Valeria e Angelo sono arrivati a C'è posta per te per recuperare il rapporto con la figlia. Il loro legame si è incrinato di recente, da quando Rosalba ha deciso di troncare ogni tentativo di riappacificazione con la sua famiglia. Il motivo, come spesso accade, è nato da questioni economiche che hanno fatto nascere tensioni tra la figlia e i suoi genitori Valeria e Angelo. La causa scatenante è stata un'automobile. I due volevano acquistare la macchina per la famiglia. La figlia Rosalba però ha preteso ben presto che i genitori la cedessero a lei e al suo fidanzato. Valeria e Angelo, titubanti e dubbiose all'inizio, hanno ceduto alle sue richieste, a patto che Sebastiano desse loro la metà del costo dell'auto per un totale di 12.000 euro. Sarebbe stato questo, a detta di Rosalba, scatenare l'atteggiamento ostile da parte dei suoi genitori nei confronti del fidanzato, che è poi peggiorato in seguito ad un altro episodio. Nel momento in cui Rosalba e Sebastiano hanno deciso di sposarsi, hanno chiesto la metà dei soldi necessari a Valeria e Angelo. Fin qui nulla di strano, finché non è stata svelata la location dove la coppia di fidanzati avrebbe voluto festeggiare, ovvero a noto, dove si sono svolte le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. I genitori hanno fatto subito notare l'impossibilità della situazione. Contando su un solo stipendio, non avrebbero potuto permettersi di pagare un matrimonio così dipendioso, dato che la location costa 10.000 euro di affitto. Il no di Valeria e Angelo ha portato così a un forte litigio tra Rosalba e il fidanzato, che ha lasciato la ragazza in un mare di disperazione. In un momento di rabbia, il padre della giovane ha provato a consolarla definendo porco Sebastiano. lei a quel punto ha deciso di allontanarsi dai genitori e riconciliarsi con il fidanzato, mettendo in piedi una guerra contro Valeria e Angelo, che hanno dovuto ricorrere a ciapposta per te per cercare di recuperare il rapporto con la figlia. Maria De Filippi ha fatto di tutto per provare a sedare le tensioni della famiglia di paterno, ma a nulla sono serviti i suoi tentativi. Nonostante abbia cercato di chiarire la posizione di entrambi i fronti, non c'è stato nulla da fare. Rosalba è stata irremovibile. Se mi interessa di loro? No, perché a loro non interessa di me. Se non sono venuti a cercarmi in questi due anni è solo per non restituirmi i soldi. Non hanno contatti con una figlia per questioni di soldi. Loro non volevano che io tornassi con Sebastiano solo perché non volevano ridargli i soldi, ha risposto la figlia. Sebastiano intanto è arrivato ad insinuare addirittura che soldi siano stati spesi dai genitori della sua ragazza per giocare. Io direi basta così, ha dichiarato Maria De Filippi, che ha pensato di intervenire per fermare quella situazione. I due ragazzi hanno chiuso la busta, mentre la conduttrice si è sentita in dovere di giustificarsi con Valeria e Angelo. Chiedo scusa, ma a un certo punto ero davvero in imbarazzo. Grazie a tutti.